L'Italia, a meno di sorprese, riaprirà mercoledì 3 giugno. Spostamenti liberi, quindi tra le regioni, con la crisi superata, secondo quanto rileva l'indice dei contagi. Nonostante questo, esiste la preoccupazione di diversi governatori, soprattutto quelli del centro-sud, che hanno un numero di casi di coronavirus molto basso, di trovarsi il virus in casa per gli spostamenti di chi arriva da territori dove invece la circolazione del covid è molto più alta. Un timore già espresso nei giorni scorsi da Sardegna, Sicilia e Puglia, alla quale ieri si sono aggiunti anche il Lazio e la Campania. Per questo il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, sentirà uno ad uno i presidenti delle regioni, proseguendo quel confronto che va avanti ormai da una settimana e che continuerà sino al 3. Ribadendo un concetto già espresso, si riparte tutti insieme. E in Sicilia, per dare un contributo a gestire questa fase delicata, ci sarà la consulenza di Guido Bertolaso. Molto probabilmente l'ex capo della protezione civile presto si stabilirà per qualche tempo in Sicilia. Le indiscrizioni hanno generato polemiche, ma chiarire lo stesso Bertolaso. In Italia, se non si polemizza, non si riesce a dormire la notte, spiegandogli se è stato chiamato per studiare il modo migliore per consentire ai turisti di venire qui tranquilli e sicuri ai siciliani di evitare di essere contaminati. Quindi, a proseguito, sto dando una piccola mano a gestire questa situazione e ho rifiutato vitto alloggio, preferendo starmene sulla mia barchetta, ormeggiata a Trapani, facendo anche risparmiare qualche euro al contribuente siciliano. Grazie. Grazie. Grazie.